Momenti di paura questa mattina all'interno di un'azienda di Pellami in via Bocconcello a Sarego, dove ha preso fuoco un abbattitore di fumi di verniciatura. Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, le fiamme hanno bruciato le calze poste internamente al macchinario e l'impianto di verniciatura posto alla base, che si trova dentro il capannone. Evacuati i dipendenti per oltre due ore per permettere ai pompieri, intervenuti dall'Onigo e Vicenza con l'autobotta e l'autoscala, di spegnere le lingue di fuoco e mettere in sicurezza il sito. Solo allora gli operai hanno potuto far rientro nello stabile.